e salve a tutti ragazzi nuovo modo di sedersi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi andremo a fare l'unboxing del mio nuovo iphone 15 pro max ragazzi questa è la scatola che avremo subito ad aprire ragazzi eccolo qua adesso ci trasferiamo alla scrivania per fare l'unboxing ragazzi eccoci qua siamo sulla scrivania adesso andremo ad aprire ragazzi eccolo qua io ho preso la colorazione blu ragazzi andremo a spellicolare che goduri ragazzi spellicolare questo è il telefono adesso andremo al centro ed eccolo qua ragazzi schermo molto più grande rispetto al mio perché io ho il pro normale attualmente avevo il 14 pro questo è il 15 pro max i bordi come potete vedere i bordi sono più sottili e il telefono è anche più smussato tipo i bordi qua adesso vi vedo con figulo e voi vedrete questo video i prossimi video che vedrete sul canale saranno registrati con questo telefono qua ovvero entrare in punzione e vedrete la 5 per il dd i prossimi video che vedrete spero che questo unboxing vi sia piaciuto e anche questo telefono ragazzi ora io lo configurerò metterò tutti i miei dati e diventerà il mio telefono principale ragazzi sia per registrare i video sia nella vita privata se questo unboxing vi è piaciuto lasciate un like ovviamente iscrivetevi nel canale e se ne vorrete altri scrivetelo nei commenti che io sarò felice di accontentarti